alcuni degli scappati di casa sono ritornato a vincere 5 a 1 contro la sabdoria, cioè non provate aspettare l'ultimo in classifica per prendere tre punti 5 a 1 una punta senza storia come la sabdoria va in parità con quagliarella poi esce fuori la qualità dei rossoneri però si viste i champions di questa qualità perché se com'è l'intero è la sabdoria e ogni volta potete beccare la sabdoria che vi regala le partite 5 a 1 ti mette giù, goliborin diaz e golileao un saluto tranquillo per i finalisti una vittoria di scioltezza che potete molto come non potete un cazzo perché la champions ancora non è cosa fatta poi all'invento di togliere quei punti di parità questo vedi allora potrebbe andare in champions matematicamente in mira ma comunque la vittoria di scioltezza gli scappati di casa ritornano a vincere e tutta istanbul allora aspetta vedere la champions league, tutta istanbul